Ciao a tutti, io sono Maria De Vigili, sono una cantautrice e chitarrista trentina, ma che vive tra l'Italia e l'America. Infatti adesso sono in America, esattamente a Las Vegas. Mi presento, appunto sono una cantautrice, compongo, scrivo, suono fin da quando sono piccolina. Ho all'attivo un EP e tre dischi. Ho suonato parecchio in Italia, un po' ovunque. Dai bar agli arci fino ai festival. Per chi è più curioso consiglio di andare sul blog di Patrizia Santini, dove tra l'altro si trova la mia intervista e si chiama musicaribelle.blog.altervista.org. Un bacione e viva la musica!